Bufera su Marciniak. L'arbitro di Intercity può saltare la finale di Champions League. Avete sentito il motivo? Il 10 giugno avrà Luga di Istanbul il match più atteso dell'anno per gli appassionati di questo sport. L'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Guardiola si affronteranno nella gara decisiva per decretare il vincitore della Coppa dalle Grandi Orecchie. L'arbitro designato dalla UEFA per dirigere la gara è il polacco Marciniak. Nelle ultime ore però è scoppiata su di lui la bufera e le cose potrebbero cambiare. La UEFA infatti ha aperto un'inchiesta sul direttore di gara. Il motivo? La partecipazione il 29 maggio ad una manifestazione di un partito di estrema destra in Polonia. Le posizioni xenofobe, omofobe, razziste e antisemite del partito in questione hanno spinto la UEFA a valutare l'ipotesi di sostituire l'arbitro per la finale di Champions League. Si attendono dunque aggiornamenti al seguito dell'inchiesta aperta dalla UEFA ma con molta probabilità non sarà lui a dirigere la gara tra Inter e Manchester City.